Dentro il cuore e l'anima del poverello di Assisi. Parole francescane ogni lunedì sera alle 21 al monastero cittadino del Corpus Domini di via Tagliapietre. È un'iniziativa proposta dai francescani della regione e rivolta in particolare ai giovani dai 18 ai 35 anni, ma aperta a tutti che si sofferma a far riflettere sulle parole che hanno contraddistinto l'esperienza di San Francesco. Unica condizione richiesta è la disponibilità a lasciarsi interpellare dalla vita del Santo Fondatore. L'obiettivo è quello di attualizzare le parole del Santo di Assisi per coniugarle con il vissuto e le problematiche dei giorni nostri. L'evento è un'occasione per avvicinarsi al Giubileo della Misericordia e naturale ponte di collegamento con il Festival Francescano 2016 che si terrà sempre a Bologna a settembre sul tema del perdono. Parole francescane nasce per desiderio del Movimento Francescano dell'Emilia Romagna che verificando l'efficacia del discorso delle dieci parole intuisce che tale modalità può essere applicata anche al messaggio francescano. Gli incontri sono guidati da un'equipe che anima alternandosi a coppie l'intero cammino.